però lei ha fatto strappo ancora maggiore vanno quarta corsa batteria c del derby italiano del trotto sei al via anche qui Condor Pasagar, Roberto Vecchione per Orgelera, Charmande Zacca, Marcos Morgon Carlo Magno Desi, Andrea Farolfi per Mauro Baroncini, Crono e K, Gianpaolo Minucci per il team Gocciadoro, Croizeros Jos Verbeck per Massimo Compagno che stoppa Alessandro Gocciadoro c'è stato l'errore in allineamento per Croizeros che resta piuttosto indietro rinuncia al lancio che stop Charmande Zacca che scavalca Condor Pasagar e va a condurre sull'avversario si inserisce in terza posizione Crono e K, l'errore cercando di ripiegare di Carlo Magno Desi che è costretto a mettersi in coda al quintetto e adesso avremo presumibilmente un'altra gara estremamente tattica con 5 concorrenti in fila indiana Croizeros fuori corsa allora vediamo i parziali con il 2 di Charmande Zacca al comando 29,7 i 400 metri dal palo fino a qui seconda posizione per l'1 di Condor Pasagar terza per il 4 di Crono e K quarta per il 6 di Cash Top in coda Carlo Magno si muove per il primo Cash Top che non vuole accettare l'eccessivo rallentamento di Charmande Zacca pronto all'anticipo Condor Pasagar guadagna una posizione in corda ovviamente Crono e K Charmande Zacca ma mezzo miglio iniziale in 1-1-4 relativamente comodo per la Lio e Malto mentre è incappato nella squalifica Carlo Magno Desi e considerando che Croizeros è lontano restano in 4 a contendersi le due piazze utili per andare in finale con Charmande Zacca numero 2 al comando Condor Pasagar che ha anticipato Cash Top ma non va per ora a premere su Charmande Zacca Crono e K in corda ma senza spazio con vicino il compagno di allenamento Cash Top Quartetto molto compatto perché ancora non si cambia marcia Marco Smorgon che bada al sodo in Salchi al figlio di V2S vediamo ora questa frazione leggermente più veloce comincia ad allungare Charmande Zacca che ha sempre al Salchi cordo Pasagar con Iscia Cash Top in corda Crono e K Quartetto ancora compatto adesso questa frazione è stata in 14-1 con Cash Top che si affaccia in terza ruota a ventaglio Charmande Zacca che allunga nella sua scia Crono e K che cerca di rimontare Condor Pasagar a centro pista muove Cash Top Charmande Zacca nel frattempo ha preso buon vantaggio Cash Top sta emergendo sugli altri Charmande Zacca in vantaggio ma lo insegue Cash Top poi Condor Pasagar Charmande Zacca in vantaggio l'errore di Cash Top che lascia in seconda posizione Condor Pasagar e allora vince Charmande Zacca su Condor Pasagar e Crono e K perché Cash Top è incappato in errore in zona proibita quando stava emergendo al posto d'onore 2.30 e mezzo sul mio cronometro 28.3 a chiudere per Charmande Zacca 2.30 e mezzo per gli ultimi 2.000 metri e quindi media intorno all'1.15.2 forse qualcosa meno tenendo conto i primi 100 metri veloci per il facile assunto di Charmande Zacca primo assegno nei confronti di Cash Top vedete sul palo è di nuovo di Trotto Secondo ma se la regia può mandare un replay più lungo perché dobbiamo naturalmente mostrare di nuovo il momento dell'errore di Cash Top che si stava profilando in seconda posizione ancora qualche istante ecco la retta d'arrivo con Charmande Zacca che ha allungato decisamente svincolandosi da Condor Pasagar che ha all'interno Cronecapa Cash Top che si era affacciato in terza ruota sta perseverando all'esterno e vedete che sta sopravanzando proprio Condor Pasagar nel momento in cui però si getta di galoppo e allora promossi alla finale Charmande Zacca e Condor Pasagar 214 l'arrivo ufficioso la linea allo studio